Giulia Sarti ha chiesto di parlare. Grazie, Presidente. Io vedo ovviamente tanti colleghi spazientiti da questi interventi a titolo personale, perché si perde tempo, perché è mezzanotte, perché vogliamo andare tutti a casa. State tranquilli, per favore. Colleghi, avevamo previsto di lavorare fino a quest'ora, quindi non c'è nulla di anomalo nel nostro modo di procedere. Io, Presidente, le chiedo solo una cosa. Io mi chiedo perché questi miei colleghi non sono ugualmente spazientiti quando per due volte viene a mancare il numero legale all'interno della Commissione Antimafia e perché si sta litigando per le poltrone. Oppure quando per colpa delle riunioni di un partito le commissioni vengono sconvocate. Ecco, io spero di vedere in futuro lo stesso atteggiamento, la stessa rabbia, anche e soprattutto in quelle situazioni, non solo per interventi a titolo personale. Grazie.